L'Azione Cattolica Diocesana, in collaborazione con il Liceo Scientifico Francesco Re di Diarezzo, organizza un incontro dal titolo Due Voci sul Creato, Custodire Voce del Verbo Amare. Come è nato questo incontro? Dunque, l'incontro è nato all'interno di un percorso che l'Associazione ha iniziato già dal triennio scorso, perché custodire è uno dei verbi che, come dire, ha fatto parte del cammino triennale e che ci ha affidato Papa Francesco anche per il nostro centocinquantesimo anniversario, che abbiamo voluto festeggiare in vari modi a livello associativo e uno di questi è stato rinfoltire il verde del centro di formazione giovanile di Giello D'Anghiari che noi custodiamo, perché è della diocesi e noi ce l'abbiamo appunto in custodia, in collaborazione con il Corpo Forestale dei Carabinieri. Allora, sull'onda di quel primo momento siamo passati a riflettere sul valore sociale di quella politica con la più maiuscola che Papa Francesco di nuovo ci ha ricordato all'incontro in Piazza San Pietro sempre per il centocinquantesimo, che è la gestione della Casa Comune. E quindi siamo voluti passare da un piano pratico, mettiamo alberi, a un piano più teorico, cosa fare, come condividere questa custodia. Quando si svolgerà l'incontro e dove? E quali saranno i relatori? Dobbiamo ringraziare il Biceo Scientifico perché ci ha veramente aperto le porte e siamo veramente contenti di questa collaborazione con una scuola. Il nostro Vescovo ci ha invitato a uscire, con la Chiesa in uscita. Non chiudiamoci nelle nostre parrocchie, non chiudiamoci nei nostri seminari, andiamo fuori. E allora, insieme al Liceo Scientifico, abbiamo deciso di farlo proprio lì, nella scuola. E i relatori saranno il professor Riccardo Ferni, docente di scienze al Liceo Scientifico e il direttore del Liceo Scientifico, il professore Anselmo Glotti. Saranno due relazioni, una un po' più tecnica, l'altra un po' più teorica, per quello che è la custodia del creato. e puntiamo appunto a fare, come diceva la Presidente, a fare lezioni anche di questo. Noi formiamo come azione cattolica, formiamo i formatori, quindi proviamo a formarli anche in questo modo.